Sono copti, papà? Ugo! Che siamo quasi! Ugo! Devi essere forte! Ti devo dare una notizia terribile! No! Sì! Ho invitato qualcuno! O c'era? No! È ritornata Rebecca da Medaglia e mi ha portato la notizia! Che è successo? Tu, zio! È morto! No! Sì! No! Sì! No! Sì! Sì! È morto zio! Siamo ricchi! Sì! Sono l'unica rete! Sono l'unica rete! Via questa casa schifosa! Me la brucio! Chi se ne frega cambiamo la casa! Via questo cibo di merda! Ti manterrà bistecche per tutta la vita! E poi troveremo un bel marito per Mariante! Forse un cacciatore di note! Comunque è morto lo zio Lazzaro! Sono ricco! È morto lo zio Lazzaro Cina è morta! Eccomi qua! Andiamo! Arrivo eh! Ecco! Giù! Sì! Scendere! Vieni Mariangela! Dai vieni piccina! Piano! Questa è la mia famiglia! Sono l'erede eh! Eccoci qua! Ho ereditato tutto! Sono l'erede universale! Andiamo! Eccomi qua! Lei notaro no? Ha portato tutta la documentazione che... Che c'è? Lazzaro! Alzati e cammina! Chi cammina? Chi cammina? Ma questo è diventato proprio... Ma che dice? Ma quello è proprio... Zio! Zio! Notaro! Scusi! Notaro! Non mi sembra tanto regolare! Qui ho fatto degli anticipi di spesa... Di spesa... Io... Ah! E lo zio Lazzaro... Non dà la mano! Ti trovo benino eh! Hugo non te la prende! No! Ma chi se la prende? Ma chi se ne frega? Andiamo a casa! Ma quale casa? Ma chi se la prende? Oh... 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 Ma chi se la prende?